In vista della festa della donna del prossimo 8 marzo, le amministrazioni del territorio della provincia di Arezzo hanno organizzato iniziative sui temi che riguardano più da vicino il mondo femminile. Tra incontri di approfondimento, attività di sensibilizzazione e spettacoli teatrali, gli appuntamenti si protrarranno dal primo fino al 31 marzo. Anche per quest'anno la provincia di Arezzo ha deciso di dare spazio e opportunità a tutti i comuni, a tutti coloro che vogliono presentare le iniziative che realizzeranno nel proprio territorio, nel proprio comune, insomma per poter dare risonanza e conoscenza anche più capillare a tutte le iniziative che vengono realizzate nella provincia. Cavriglia, Laterina, Montesanzavino, Monterchi, Pieve Santo Stefano sono solo alcuni dei comuni protagonisti delle varie iniziative. Consultando il sito www.didonne.it è possibile trovare il calendario completo degli incontri e di tutti i comuni del territorio aretino partecipanti al progetto della giornata internazionale delle donne. Le iniziative sono veramente tante, la risposta è stata veramente importante, quindi stamattina parliamo di tutti gli eventi che vengono realizzati, dalle rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, iniziative di vario tipo che vogliono dare risalto alla figura della donna, anche rifuggendo quella che è la retorica, insomma non solo valorizzando il ruolo della donna in quanto tale ma andando a ripercorrere tante caratteristiche del ruolo femminile, dal ruolo della donna nel lavoro piuttosto che nella vita familiare attraverso la realizzazione personale.